ma proprio mentre progettavamo la prima edizione che è stata aperta da un suo lungo messaggio ascese al soglio e lui ci tenne in modo particolare che questa occasione si svolgesse a Norcia era un segno poi anche del nome che avrebbe scelto una volta divenuto Papa proprio perché appunto la figura di San Benedetto era la figura di un ricostruttore che avrebbe potuto ispirare in un tempo in cui in realtà c'era tanto da ricostruire eravamo insomma al confine tra i due secoli in un momento molto difficile dal punto di vista geopolitico e dal punto di vista anche delle sfide e delle problematiche religiose in realtà questa iniziativa nel suo spirito ha incarnato un po' quella che poi è stata ripresa eminenza con il cortile dei gentili ed era appunto questa e quella nel segno dell'apertura questa formula non è mai cambiata e cioè la scelta di un tema intorno al quale chiamare appunto a ragionare uomini di fede, di chiesa e invece laici, non laicisti aperti evidentemente al confronto l'abbiamo sempre svolta a Norcia fino a che i fatti del 2016 non ce l'hanno impedito da allora per due anni di seguito questa iniziativa si è svolta ad Anagni lo scorso anno si è fatta in una valle dell'Aretino e quest'anno aprò dall'Aquila le ragioni non sono soltanto legate alla spiritualità di questa terra ma anche al tema che è stato prescelto e cioè appunto il tema della correlazione tra crisi demografica e crisi delle aree interne l'Aquila è un po' la capitale delle aree interne lo è per quella che è stata la sua vicenda e se noi teniamo conto anche di ciò che è accaduto nel nostro paese dal 2009 in poi possiamo anche dire che l'Aquila è un esempio di resilienza e di capacità di ripresa ed è anche un esempio del dialogo che si è instaurato tra le autorità laiche e le autorità ecclesiastiche tutte queste ragioni ci hanno portato a voler svolgere qui l'edizione di quest'anno io devo ringraziare tutti, ringrazio le autorità, ringrazio gli ospiti ci saranno molte esperienze che verranno messe a confronto in questi due giorni perché le aree interne non sono tutte uguali e soprattutto ci si confronterà con un'occasione storica perché per molti versi il PNRR è un'occasione storica saluto l'onorevole Fassina che è appena arrivato e non è, credo, da non sottolineare il fatto che per la prima volta in un decreto sulle aree fragili si è pensato di creare una cabina di regia sulle aree interne cioè si è riconosciuta che le fratture territoriali del nostro paese non sono più soltanto quelle fratture orizzontali con le quali siamo abituati a confrontarci mi riferisco alla frattura tra nord e sud ma c'è anche una frattura verticale che attraversa tutta quanta la dorsale appenninica e che crea dei problemi inediti soprattutto laddove le due fratture poi si sovrappongono quindi dicevo i due temi sono questi confrontarsi con la diversità e la varietà di situazioni partendo dai territori e partendo da chi i territori li presiede cioè innanzitutto i sindaci e poi confrontarsi con quella che può essere considerata un'occasione difficilmente ripetibile appunto quella del PNRR per vedere a che punto siamo e soprattutto cosa è realistico che si faccia un ringraziamento particolare a sua eminenza il cardinale dell'Aquila Giuseppe Petrocchi a cui ora do la parola per un indirizzo di saluto che ha cambiato la sua agenda per poter stare anche soltanto una piccola parte di tempo con noi a sua eccellenza Monsignora Crocca Vescovo di Benevento è esperto posso dire di queste tematiche di questi problemi e diciamo anche un ringraziamento particolare a sua eminenza il cardinal Ruini del quale domani sentiremo un contributo registrato cioè un video che insomma soprattutto del tema del tema della crisi demografica determinato dalla crisi demografica è stato un antesignano se ne l'ha segnalato insieme a una parte consistente della Chiesa quando vi erano ancora tante persone che ritenevano che in questo paese si nascesse troppo e che bisognasse fare qualcosa per limitare le nascite ecco quindi ripercorrere questi anni e anche gli errori che si sono fatti è anche un modo per non ripeterli io mi fermo qui ho già detto troppo e la parola a sua eminenza Giuseppe Petrocchi per un saluto iniziale io mi scuso se non potrò trattenermi come avrei desiderato per seguire i lavori di questa assemblea di cui sarò aggiornato successivamente perché impegni romani già precedentemente assunti mi obbligano a mantenere un'agenda che non mi consente di prolungare la mia presenza qui però ci tenevo a dare un segnale di sostegno e di incoraggiamento perché sono un convinto e appassionato sostenitore dell'urgenza di mantenere l'attenzione collettiva su questi temi fondamentali della emorragia demografica che si registra in larghi strati del nostro territorio in particolare nelle aree interne e anche per studiare strategie che consentano non soltanto di frenare questo fenomeno ma di attivare percorsi positivi virtuosi tenete presente che sono stato per 17 anni parroco di piccole comunità collocate nella montagna ascolana quindi non parlo per sentito dire cioè sull'altro versante dell'appennino centri purtroppo che sono stati devastati dal recente terremoto 2016 ritengo che ci debba partire da un approccio positivo cioè non condizionato da una visione in partenza problematica in eccesso e cioè queste aree interne non sono zone deprivate socialmente non sono zone caratterizzate da povertà organizzativa economica sono zone da considerare risorse da custodire da trasmettere perché il primo tesoro che queste comunità piccole custodiscono è un patrimonio culturale e voi sapete che cultura non va intesa in senso scolastico non coincide con i gradi accademici con i titoli di studio la cultura è l'arte che un popolo costruisce nel tempo per elaborare un'arte di vivere in un ambito geografico e in un arco storico e da testimone diretto posso dire che uno dei valori fondamentali della cultura delle genti di montagna è la solidarietà perché in ambienti difficili dove la natura spesso assume tratti ostili soltanto insieme si possono vincere sfide che possono essere anche estreme quindi per la gente della montagna è un asserto acquisito direi geneticamente il fatto di essere con gli altri per gli altri perché ciascuno possa custodire se stesso vorrei anche quindi precisare in questo senso che la risposta a questa crisi demografica che vede lo svuotamento di queste zone montane non si gioca solo sul piano di attrezzare con servizi migliori con funzionalità più strutturate con organizzazioni più adeguate queste comunità cioè non basta soltanto l'aspetto tecnico amministrativo che pure è fondamentale perché certamente se in un luogo mancano i servizi essenziali la gente è costretta a emigrare anche se si tratta di esodi interni alla nazione ma non sono meno sofferti ecco si tratta anche di valorizzare delle opportunità che io considero importanti per esempio il patrimonio costituito dall'architettura religiosa è impressionante il fatto che in questi piccoli centri la gente né passato povera si è sottoposta anche a forti impegni economici per dotarsi di chiese belle non trovate chiesuole trovate strutture di alto livello hanno chiamato artisti a dotare queste chiese di affreschi di dipinti di alto di alto livello di alto profilo questo patrimonio deve essere conosciuto quindi per esempio il turismo religioso andrebbe sostenuto incoraggiato perché rappresenta un modo in cui questi paesi vengono per così dire raggiunti da un'attenzione che rende più comprensibile e motivata alla permanenza un altro aspetto per esempio è la risorsa paesaggistica naturalistica che a me sembra anche qua da incrementare perché il Padre Eterno ha dotato questi luoghi di bellezze straordinarie inesauribili che vanno scoperte che vanno fatte conoscere perché anche la adeguata valorizzazione di questi percorsi costituisce un flusso importante non soltanto economico ma anche civile cioè di rapporti che si stabiliscono quindi io non posso che esprimere il mio consenso a tutte le iniziative come questa che polarizzano l'attenzione su questi temi perché l'impoverimento di queste aree rappresenta una diciamo condanna che si scarica sull'intera comunità civile quindi non rimane per così dire una situazione di deficit circoscritta a una zona è un'intera comunità che si priva di una grande risorsa perciò il mio invito è quello di fare subito fare presto fare insieme fare bene anche perché ripeto è uno slogan quindi che non basta fare bene bisogna fare bene il bene perché il bene fatto male è male anzi può essere peggio del male fatto bene il bene fatto male è devastante allora non soltanto si tratta di elaborare piani e di sostenerli ma di dotarli di una qualità fondamentale che è quella dell'adeguatezza e quindi della rispondenza di un progetto alle urgenze delle situazioni evitando approcci ideologici che spesso non consentono di cogliere le situazioni nella loro oggettività e invece proponendo come stile quello di una ermeneutica ispirata ai criteri di un umanesimo integrale integrato che ha a cuore la realizzazione di ogni persona nella sua interezza di un'espirata